Ciao, sono Elisa, sono un agrichef col Diretti e questa è la mia azienda. Il nostro agriturismo si trova tra le spendide colline di Campodipietra. Lui è Biaggio, mio marito che mi aiuta a portare avanti l'agriturismo. Abbiamo mucche, capre, pecore, galline e conigli e un asinello. Biaggio li accudisce tutti con amore e si occupa anche della coltivazione dei prodotti che usiamo nella nostra cucina. Le mie nonne mi hanno trasmesso la passione per la cucina tipica del nostro territorio. Oggi sono alla continua ricerca delle ricette antiche per riscoprire i piatti e i sapori tipici del nostro territorio. Stiamo trasmettendo questi valori e questa passione anche ai nostri tre figli, Federico, Marco e Ludovica, con la speranza che Ludovica porti avanti il mio progetto di riscoprire gli antichi sapori della nostra cucina molisana. vediamo Grazie per la visione!